All'interno del box, chili di droga, l'auto, gli attrezzi, un sottofondo dove erano stipati due chili di marijuana, un etto di cocaina, tre etti di hashish. In manette è finito un quarantenne, italiano, i poliziotti della squadra mobile lo seguivano da tempo, il sospetto, quasi la certezza che nel garage di casa, a Busisi Oparini, nascondesse la sostanza stupefacente. Nel box, occultate all'interno di alcuni scaffali in cui era stato ricavato un apposito doppio fondo, c'erano marijuana, cocaina, hashish. I messi sul mercato gli avrebbero fruttato diverse migliaia di euro. L'uomo è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio e portato alla casa circondariale di Lecco a disposizione dell'autorità giudiziaria. Comparso in tribunale, il giudice ha convalidato il fermo e disposto alla misura degli arresti domiciliari. Si tratta del secondo sequestro nell'arco di poche settimane di ingenti quantità di sostanza stupefacente messo a segno dalla polizia di Lecco. A marzo, la squadra narcotici della mobile aveva rinvenuto in un box di via letturati a Lecco, mezzo chilo di cocaina, tre chili e mezzo di hashish, tre chili di marijuana, tre pistole semiautomatiche di cui una con matricola brasa. Un ritrovamento non certo per caso. Le indagini continuano.